Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 17 dicembre. Ariete, l'opposizione della luna oggi non vi coglie nemmeno di striscio. Con il favore del sole e di giove, farsi valere sarà un gioco da ragazzi. Incontri simpatici e coincidenze interessanti, in qualunque situazione vi accaparrate il centro della scena. Toro, novità importanti vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazione l'istinto che suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma bisogna gestirla con metodo, organizzazione e pianificando ogni cosa. Giamelli, neanche il fatto che siete al lavoro può togliervi oggi il sorriso grazie alla luna in bilancia, dispensatrice di creatività, dolcezza e intuito. È il periodo ideale per occuparvi di arte, cambiare look e ultimare l'acquisto dei regali di Natale. Cancro, umore alterno in mattinata, ma con il passare delle ore ritrovate la serenità e la lancetta del barometro si posiziona sul gran caldo. Dalla vostra avete grande grinta e tenacia, tenete a bada l'emotività e la partita sarà tutta da giocare. Leone, non lasciatevi sfuggire in occasione d'oro e con una mossa elegante e tempestiva, portate a termine con successo affari, trattative e conquiste. Voglia di nuovi acquisti, creatività, recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi. Vergine, molti pianeti disponibili a farvi compiere un valso in avanti nelle attività. Lo studio presenta magnifiche aperture per i successi futuri. Ci saranno numerose soddisfazioni personali e, aspetto per niente trascurabile, anche economiche. Bilancia sostenuta dal sole e da giove, la luna nel segno non si lascia turbare dai contrasti presenti nella coppia. Ottimismo e fiducia nel futuro. È la giornata giusta per depennare qualche regalo dalla lista. In giro per negozi troverete ciò che fa per voi. Scorpione, piccole circostanze favorevoli forniscono a soluzioni anche a problemi grossi o a questioni che vi stanno a cuore. Intuizioni preziose. L'importante sarà badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di fare i pignoli e di impuntarvi su delle sciocchezze. Sagittario, il sole nel segno e giove potenziano gli effetti della luna, imprimendole uno sprint eccezionale. Carisma, consensi in ogni campo, una vittoria legale, una multa scampata, una controversia che si risolve a vostro favore. Baciati dalla fortuna. Capricorno, questioni legali complesse, nonostante la vostra sfiducia, fanno intravedere possibilità di appianamento, riscossione di vecchi crediti, chiusura e diffidenza nei confronti di chi non conoscete bene, non abbiate paura di mostrarvi come siete. Aquario, una giornata da sballo grazie al sestile luna sole, ideale per fare incetta di prodotti in offerta, coccolare l'amato e liberare la vena artistica. Siete aperti, creativi, comunicativi, ma con un fondo di correttezza che piacerà a molti, soprattutto ai colleghi. Pesci, interessante questa giornata dal ritmo pacato, ma che offre altresì ampi spunti preziosi in merito a questioni economiche di un certo rilievo. Valutate eventuali operazioni finanziarie con occhio critico, ma lasciate che sia l'intuito ad avere l'ultima parola.